O vivo o morto tornerò, così disse l'allora patriarca di Venezia Giuseppe Sarto nel luglio 1903 alla partenza per il conclave che lo elesse Papa. Nel 2023, a 120 anni dalla sua salita al Soglio Pontificio, San Pio X ritornerà a casa. Papa Francesco, a cui il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, ha scritto di proprio pugno una lettera, ha consentito a una peregrinazio del corpo del Pontefice a Riese nell'ottobre dell'anno prossimo, presumibilmente da sabato 7 a domenica 15. Si attende solo il definitivo via libera dall'arciprete della Basilica di San Pietro. È una bella occasione, aspettiamo ancora le risposte definitive perché vogliamo essere sicuri con l'arciprete della Basilica di San Pietro, il carneale Gambetti che il trasporto, il movimento possa essere davvero sicuro, ma c'è la possibilità di questa peregrinazio in un momento bello, importante, dove riprendiamo ancora una volta stimolo, suggerimento, impegno della figura di San Pio X che ci costringe col tempo a capire quanto fosse riformatore, quanto fosse importante, quanto fosse veramente pastore. L'aspetto organizzativo delle celebrazioni sarà seguito da Fondazione Sarto e Comune di Riese. È l'occasione di mettere in campo delle iniziative, tra cui il restauro completo della casa natale, il rialestimento museale, un nuovo percorso di visita, azioni comunicative eccetera, dall'altra parte di poter veramente essere attrattivi per tutto il mondo di pellegrini che vengono già comunque a Riese ma che potrebbe avere in questa occasione un momento fondante nella storia quantomeno del nostro paese.